Scommetti sottoporta! Che cosa avete giocato? Poi chiaramente fate le veci anche del buon Alessandro che non è qui presente ma che salutiamo. Sì, dico le mie per questa scommessa, per questa ultima scommessa, diciamo, per quanto riguarda la nostra merce. Sottoporta show, ovviamente, perché poi con Europa e Coppa America ce ne stanno di scommesse da giocare. Beh, insomma, le ultime giornate di campionato sono sempre molto complicate. È difficile fare dei pronostici. Noi comunque ci vogliamo provare e per questa settimana le mie scommesse sono le seguenti. Allora, Sassuolo-Inter 1x più gol, Lazio-Fiorentina x2 più gol. Quindi cerchiamo con la combo di aumentare un pochino le quote, anche se ovviamente sono delle partite, secondo me, molto incerte, perché ci sono delle squadre che lottano ancora per degli obiettivi e delle altre che invece non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. Quindi comunque sono delle scommesse molto incerte. Le mie scelte per questa settimana speriamo bene, perché nelle ultime settimane purtroppo non ci è andata molto bene. Quindi speriamo il colpaccio. Poi Federico, fai anche le vici di Alessandro. Come le partite mie sono Genoa-Atlanta 1x e Udinese-Carpi 1-2. Cioè ho preferito mettere Genoa-Atlanta 1x nel senso che vedo una partita in cui Genoa, ripeto, siccome è una tifoseria molto calda e quindi i tifosi ci tengono a chiudere in bellezza, e quindi la spinta dei tifosi dovrebbe portare Genoa almeno a impattare nel pareggio. Invece Udinese-Carpi ho messo 1-2 per il semplice fatto che è una partita molto aperta. L'Udinese non so fino a che punto si effettivamente salva, perché comunque il Carpi deve assolutamente vincere per salvarsi. Diciamo ormai però il cerchio è quello. Il cerchio si è chiuso, però comunque è un tentativo, non fa mai male le squadre, perché c'è sempre la classifica ulsa nel caso di parità. Per quanto riguarda le ultime partite individuate, abbiamo Empoli-Torino 1 e Nina-Roma 1x più gol. Queste due ultime partite sono state censite dal farmacista Alessandro, che ha voluto dare un premio all'Empoli e ha voluto mettere 1x più gol nella sezione Milan-Roma. Ok, perfetto. Allora, ricapitoliamole velocemente. Sì, sono solo Inter 1x più gol, Lazio-Gerentina x2 più gol. Le tue quelle di Alessandro? Le mie quelle di Alessandro, io ho messo praticamente Genoa-Atlanta 1x, Udinese-Carpi 1-2, invece un attimino solo che... Allora, Empoli-Torino 1, Alessandro, il farmacista, e Milan-Roma 1x più gol. Puntata minima di 3 euro.